Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale! Oggi siamo qui nel canale Sadi, Sadi, Sadi! E le altre volte? Io sono Serena e io sono Max! Ciao a tutti! Cosa facciamo oggi? La slime challenge! Ci sono in tanti, in tanti stanno facendo queste slime challenge e noi potevamo esimerci, vero? Sì, potevamo esimerci! Invece anche noi, perché qualcuno esisteva a mantenere, ci buttiamo in questa nuova avventura. Abbiamo anche le colle adatte, abbiamo del buonissimo bicarbonato, e le mangio a tonnellate. Abbiamo il liquido per le reti che abbiamo sottratto cultivamente alla mamma. Abbiamo dei glitter, anche se adesso sono già glitterate. Io è la prima volta che faccio una cosa del genere, quindi già parte avvantaggiata questa bimba. Abbiamo delle coppette piccoline, quello che passa al convento. abbiamo le nostre palestine, patoline. Aspetta, facciamo la lotta! E andremo oggi a vedere quale sarà più riuscito, riceverete voi, voi. Grazie perché state iscrivendo sempre più e noi ci divertiamo a fare questi piccoli video, aspettiamo un puntino a piacervi. E niente, partiamo allora! No, prima questa quella azzurra. Cominciamo quindi? Sì. Ah, ok. Tu prendi quella azzurra, io prendo quella viola. Vediamo un pochettino, sono le colle della Hermes, quelle usate maggiormente, dai più, io non ne so, mezza? Mmm, questa è un profumasse, invece non profuma per niente! Allora, come funziona? No, per portarlo così, perché altrimenti... Ah, non si apre così, bisogna avversarla? Penso che l'ho fatta così io, che arriva. Io la toglia adesso un pochettino. Eh, metto poca, proprio voglio fare il mostrato in due colori. Allora, mettiamo... Oh, l'ho messo un sacco, cavolo! Verso, versiamo, 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 versiamo... No, papà, non tutta! Basta! Ma te neanche me! Non tutta, basta! E continua a cascare! No, ci devo fare! Io no, io la faccio solo viola! La faccio solo viola, Poi, allora, dobbiamo versare... Tu ci vuoi mettere anche il glitter? No, io la faccio più semplicina. Facciamo una cosa, anche io ci metto un pochettino di quella azzurra, perché no, perché no, ci voglio mettere anche quella azzurra, un pochettino, uno spettino qua, come sta venendo la tua? Molto più, incendono i glitter, cavolo! Ci sono i glitter? Non scendono! Non scendono! Ah, una mano in avanti, la darò mai! Cos'hai fatto che stai seminando? Guarda che bella, guardate che bella la mia! La mia sarà ancora più bella quando ci riuscirò a mettere questi glitter! Aspetta! No! Papà, guarda che il più bello sono uguale il mio slime! No, il mio è più bello! Ecco! Così invece si che... Cos'è il super flisterato? Guardate quante ne sono venuti giù! Ah, Serena! Io l'ho messo un pochettino! Serena ha buttato giù una roba diventata gialla! Allora, adesso cosa dobbiamo fare qui? Dobbiamo mettere il bicarbonato! No, prima no, bisognava mescolare! Bisogna mescolare? Sì! Meno male che c'è lei che mi spiega perché sono uno vizio! Sono uno vizio! E diventa super flisterato, cavolo! A me è venuta una roba mista qua, non si capisce! Va bene, molto bene! Beh, questa cosa appiccicosa, chi lo sa! E poi è diventato dorato! Mettiamo un po' di bicarbonato! Ah, quanti glitter ha aggiunto! Mettiamo bicarbonato! I miei è diventato dorato, dai! E' pure incollato sto bicarbonato, aspetta! Colare è diventato dorato! Mettiamolo così, mettiamolo così! Mamma no, papà, non bisogna mai esagerare! Non bisogna mai esagerare! A me me lo dici! Allora, aspetta, qui è venuta a fare una cacchetta! Mischiamo, 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 mischiamo! Mamma non si capisce perché cosa sta venendo a fare! Gira il tuo! Guardati il tuo! Il mio è dorato, è bellissimo! È dorato! E adesso mettiamo... Guardate! E se ci vede la mamma con il lipido perlentine qui è finita! Oh oh! C'è la mamma con il lipido perlentine! Ci ha beccato la mamma! No! Fatti vedere se c'è il coraggio! No! Versiamo! 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 Non usarlo tutto! Che lo fa la mamma sembra bello in mente! Ma si! Ma chi se ne importa! Ma già non ci vede! Allora, vediamo mamma! Ho forse esagerato un pochettino! Ma che cosa? Io mescolo qua! Ho dovuto fare una pappetta! Secondo me c'è un po' di bicarbonato! No! Basta! Ho fatto un po' di bicarbonato! Un po' di bicarbonato! Il mio si sta formando! Ecco, adesso ho un po' esagerato col bicarbonato! Gira, gira, gira! Gira, gira, gira! Qualcuno ride a distanza! Gira, gira, gira! Già, metti un altro po' di liquido perlentine! Mi sa che ci prendono noi in giro! Ah! Anche tu brava! Insisti, insisti! E' venuto a fare una roba tutta bianca! Qua non si capisce! Ma a te! Ma papà! Quello lei succede quando metti troppo bicarbonato! Eh, lo so! E ci chiesto anche a me una volta quando sta cucinando! Ma tu sai, io sto detto sono un novizio sono! E non è per me una roba nuova! Poi bisogna farlo con le mani per il resto! Non ho voglia prendere con le mani! Eh, finché non ne ha fatto tanto appiccicare! Poccio! Che non è spiccicoso! Non è spiccicoso! Prima bisogna mettere le liquido perlentine sulle mani prima di metterle! Ah si? Me lo dici adesso! Me lo dici! Perchè? Per togliere la piccicumera! Dove metterla a togliere la piccicumera! Mamma mia! Se è tutto farinoso sto colore! A me è venuto da una roba liquidissima! A me è venuto da un bellissimo dorato! Ecco il caffetto! Perché è venuto da qui! Ha rotto la caffetta! È indicibile qua! Cos'è sta cosa? Oh! Vedete che bello! Wow! Guarda chi è che è uno slime bellissimo che no? Aspetta! Posso aggiungere un po' di colla adesso? Se posso aggiungere un po' di colla? Ho fatto una roba che un po'... Dai aggiungiamo un po' di colla! Aggiungo un po' di colla! Ma papà è super liquido! C'è dentro la colla liquida cos'è? Beh! Esatto! Gli sputazzi sono! Uh! Beh! Guardate qui che bello! È dorato! Non so come che ho fatto con la colla liquida con la viola! C'è un disastro! Aiuta! Quello! 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 Che è una schifezza! Cos'è sto coso? Io non so neanche se sta andando più il video! Non so se ne sappiamo niente! Ah! Questo si che fa schifo veramente! Lo slime già faceva schifo! Questo fa molto! Non è vero! Guarda! Vedi! Si sta formando! Guarda! 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 Forse forse! Aspetta! Io! Il mio dorato! Come hai fatto a venire giallo e verde il tuo? Oddio! Guarda! Non lo so! Stai giunto ai topi glitter dorati! Non lo so! Non lo so! Andava bene all'inizio! È bellissimo! Il mio! L'impasto! Io faccio il panico! Aspetta! Ma papà! Ho provato il mio! No! È più bello! Voglio giocare con il mio che è bellissimo! Guarda! Guardate! Che bello! Goccio! Ma il mio è molto più carino! Il tuo è viola! Non so il colore! È bellissimo il colore! Il colore è stupendo! Vero? Vero! Guardate! La consistenza o no? La consistenza! Il mio è consistentissimo! Il mio ti allunga! Non è che puoi vincere sempre tu tutte le cose! Il mio Goccio! È proprio il problema! È troppo liquido per lei! Adesso la mamma non potrà più mettere il mio! Mi butta un po' di cacchetta! Vestitelo te! Vai! Va bene! Dai! La chiudiamo qui! Allora! Facciamo vedere il risultato finale! Fai vedere il tuo! Guardate che bello! Wow! Allora! Aspetta! Anche il mio! Guardate che meraviglia! Guardate! Il mio è il colore violino! Ma il violino non è un argomento! Il mio è meraviglioso! Proprio bello! Ma tu hai sporcato tutto! Non si capisce neanche che colla! Va bene! La chiudiamo qui! Dai! Cosa diciamo? Voi decidete quello che mi è piaciuto di più! Grazie per aver seguito questa puntata! Cosa diciamo a tutti? Grazie per aver visto questo esperimento terrificante! Almeno il mio sì! Ci vediamo alla prossima! Mi raccomando continuate a iscrivervi! Dite anche ai vostri amici di vedere i vostri disastri! I miei disastri! I miei esperimenti è usciti benissimo! Iscrivetevi! 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 Oggi è il nostro anniversario! Quindi auguri anche a me! E alla mamma che è imboscata lì dietro! Che non si vede! E... Grazie! Grazie ancora a tutti! Grazie ancora a tutti! Alla prossima! E... Un salutone! Ciao ciao! Ciao! Vai schifo! Nooo! Ma sono diversa di liquido per le tini! Ma sono diversa di liquido per le tini!